Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 luglio, sono stati celebrati i funerali di Santo Facino, consigliere comunale nella Basilica Cattedrale di Crotone. Un grande dolore per i familiari e per la città. Santo Facino, un uomo dal cuore generoso e sempre al servizio dei cittadini, innamorato di Crotone, amico di tutti, si è spento all'età di 69 anni. Sentiamo cosa dice il Sindaco Voce ai nostri microfoni. Il consigliere Facino, una perdita grandissima, non solo dal punto di vista personale, un grandissimo amico. Ogni mattina, voglio ricordarlo in questo modo, quando non andava in ospedale perché faceva la dialisi, era qui seduto a quella sedia lì. Per cui una perdita, un amico carissimo, ogni mattina ci confrontavamo sui problemi della città. Una persona che amava la città di Crotone, che sapeva i problemi della città di Crotone e che con grande impegno li ha affrontati in questi quasi due anni di consigliatura. Dobbiamo anche aggiungere, appunto come lei diceva, l'amore per questa città l'ha sempre avuto. E soprattutto, ecco, una scomparsa fatta in maniera così veloce non se l'aspettava nessuno. Guardi, il venerdì scorso era qui in questa stanza, mi aveva chiesto che voleva organizzare un pranzo tra i consiglieri. Quindi Santino era questo, una persona veramente che guardava avanti, nonostante i suoi problemi di salute, perché fare dialisi sappiamo che significa. Una grande perdita, veramente un grande dolore. Cosa dirai ai familiari? Eh, questo sarà difficile, guardi. È difficile perché io in questi giorni ho chiamato spesso la figlia Margherita, il figlio, ma ho cercato di consolarli, ma erano loro che dovevano consolare me. È un giorno triste, un giorno triste per la città di Crotone. È un giorno triste, un giorno triste per la città di Crotone. È un giorno triste per la città di Crotone. Grazie a tutti.